Tre querce d'oro e sette d'argento, un riconoscimento importante per valorizzare le eccellenze di Cipito Vecchiesi? Esattamente, vogliamo che questa città che ha una storia antica, una storia orgogliosa, una storia potente possiamo dire e che ha soprattutto un futuro importante, debba riacquisire quell'orgoglio appunto di essere tale e quindi valorizzare le proprie eccellenze. A Cipito Vecchiesi ci sono tante eccellenze, dallo sport, dal turismo, dalle professioni, dall'imprenditoria. Queste eccellenze debbano essere assolutamente valorizzate e noi con queste tre querce d'oro valorizzeremo coloro che secondo noi si sono destinti. Ovviamente non saranno i soliti, anche perché è i soli, perché noi pensiamo che c'è tanta gente, ma siccome questi premi si articoleranno anno per anno, ovviamente quest'anno ne diamo tre, però dobbiamo dire che la cosa principale è che noi vorremmo che i Cipito Vecchiesi comincino a credere in un futuro migliore di questa città. Intanto è una volontà del Consiglio Comunale che in giugno ha approvato una delibera dove c'è un regolamento chiaro e dove si definisce la quercia d'oro e la quercia d'argento come riconoscimenti a persone che indipendentemente dalla collocazione nella scala sociale della città, insomma, sono gratificate per il modo con il quale hanno svolto la propria attività, il proprio mestiere e quindi poi ovviamente invece le querce d'oro per personaggi che si sono particolarmente distinti. Vogliamo che Civitecchia con questo recuperi più in fretta possibile il senso di comunità. Ecco, nel corso della conferenza stampa forse anche ironicamente si è fatto un parallelo con la notte degli Oscar. L'oggetto non è sicuramente dello stesso valore, ma è un valore importante. Ce ne parli? Sì, intanto, ecco, sono oggetti importanti da un punto di vista, un oggetto d'oro di 125 grammi è già comunque un oggetto molto prezioso, ma io direi che il valore è inestimabile proprio perché sono dei pezzi unici e io ringrazio Carlo Tacchi che ha ideato il disegno di questi oggetti e Marco Mancini che è Marco Lorafo che li ha realizzati, ma essendo pezzi unici sono appunto pezzi di valore inestimabile, e quindi sono degli oggetti veramente belli che vanno costruiti in cassa foto.